Oggi dobbiamo indagare in un mistero YouTube. Allora, iniziamo col dire che pubblico due video differenti. Il primo, lo vediamo qui, e si intitola Viaggiare al tempo del coronavirus. Mentre il secondo, Turismo e Scenari per il dopo coronavirus. Chiaro? In tutti e due i casi viene detto Questo video riceverà delle limitazioni perché noi abbiamo verificato Oh, non corrisponde al nostro regolamento. Bene, però poi puoi fare ricorso. E io cosa faccio? Faccio ricorso! Nel primo caso, a seconda, loro hanno rivisto, hanno controllato, hanno verificato. Ebbene sì, non viola nessuna regola. Nel secondo caso, hanno controllato, hanno verificato. No, viola le loro regole. E quindi, siccome violano le loro regole, via! Confermano quello che hanno detto in base al loro regolamento! Eccolo qua. Sapete qual è la cosa divertente? Che nessuno dei due video viola il loro regolamento. Quindi questa è la dimostrazione che tutti questi algoritmi, tutti questi scienziati, tutti questi programmi perfetti, che riescono tutta questa intelligenza artificiale, cara YouTube, può essere anche molto intelligente artificialmente. Ma se dietro c'è un cretino che deve usare l'intelligenza artificiale, non succede nulla. Perché in realtà, ti sfido a verificare, non c'è nessuna differenza tra i due video se quello che vale per uno vale anche per l'altro. Quindi significa che il tuo sistema, da grande scienziato, da grande Silicon Valley, è fallito.